Il paradiso delle signore. Martedì 9 giugno 2020. Tra Maria e Patrizia, la prossima venere sarà Patrizia. Maria resta molto delusa e va a sfogarsi dagli amato, da cui riceve subito grande accoglienza. Agnese e gli altri vanno alla caffetteria e Rocco e Salvatore continuano a farle domande sulla relazione con Armando. Rocco si scaglia duramente contro quest'ultimo, parlandone molto male con Agnese. Marcello assiste a questo dibattito divertendosi molto. Nel frattempo Vittorio prende la decisione di proiettare un carusello con gli abiti disegnati da Gabriella. Angela intanto riflette su quello che deve fare con la lettera che ha trovato. Deve parlarne con qualcuno, riconsegnarla a Riccardo o fingere di non averla mai vista? In caffetteria Marcello intercetta per caso una telefonata di Federico per Roberta. Improvvisamente preda di un attacco di gelosia, il ragazzo parla con Federico e scambia qualche parola aggressiva con il suo rivale in amore. Al paradiso intanto sono tutti molto felici per l'imminente proiezione del carusello e tutti si organizzano al meglio per l'evento. Ad essere molto infelice però è come sempre Riccardo. Grazie a tutti.